Una mattinata ricca di contenuti, quella che stiamo vivendo insieme. Abbiamo scoperto le peculiarità, anche floreali, del nostro Gargano, ma adesso facciamo un salto dall'altra parte della Capitanata, sui Monti Dauni, perché è in collegamento con noi il sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna. Gianfilippo, buongiorno, bentrovato. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Grazie a te per la disponibilità a fare due chiacchiere con noi stamattina. È fine settimana, è sabato, quindi ci stiamo prendendo del tempo per far conoscere ai nostri telespettatori le peculiarità del territorio di Capitanata, dove padre Pio molti anni fa arrivò per stabilirsi definitivamente a San Giovanni Rotondo, che è al centro del Parco Nazionale del Gargano, ma un po' tutta la provincia di Foggia è ricca di bellezze naturali, storiche e più in genere turistiche. Biccari, di cui sei sindaco ormai da diversi anni, è un piccolo borgo dei Monti Dauni che però, grazie al lavoro che state facendo, è balzato agli onori della cronaca a più riprese. Come mai? Che cosa hai fatto? Qual è la tua ricetta magica? Ma insomma, ricetta magica no, c'è tanto lavoro, un po' di divisione, soprattutto la voglia di ribaltare alcuni paradigmi. Noi siamo stati abituati sempre a parlare di quello che manca, delle cose che non ci sono, dei vari gap che il nostro territorio ha. Noi qualche anno fa abbiamo provato a ribaltare questo punto di vista e a concentrarci di più sulle risorse che abbiamo, su quello che può offrire il nostro territorio, sui nostri possibili punti di forza e abbiamo scoperto, o meglio riscoperto, di avere, nonostante tutte le difficoltà del caso, comunque di avere un territorio che nasconde tante risorse e tante opportunità. Prima ancora di addentrarci in quelli che sono stati i progetti che hanno fatto grande Biccari in questi anni, io faccio notare alle nostre amiche e ai nostri amici che ci seguono da casa o in diretta streaming da tutto il mondo su www.padrepio.tv, come anche tu, come l'ospite che ti ha preceduto, sei molto giovane, sei una persona che ha deciso di restare e di non andare via. Mi voglio soffermare su questo tema perché credo che oggi sia anche un po' la chiave per pensare a un futuro diverso, più partecipato, più sostenibile, lontano, cioè in grado di recuperare anche l'importanza dei nostri territori d'origine. Sì, è un po' la nostra scommessa. Questa è una terra di emigrazione, è una terra da cui si è sempre partiti, è una terra che ha con i propri figli fatto ricca tante parti d'Italia e del mondo. Abbiamo emigrati biccaresi in tutta Italia, in tutta Europa e anche oltreoceano ed è quasi diventato un dato scontato che i giovani andassero via. Noi stiamo provando a far diventare il nostro territorio non solo un luogo di partenza, ma anche un luogo di arrivo, un luogo in cui si può restare, un luogo di passaggio dove si possono venire a vivere delle esperienze. Crediamo che sia fondamentale questo perché non solo può dare una mano dal punto di vista economico al nostro paese, ma soprattutto perché può agire sulla materia prima di cui abbiamo più bisogno, che è la fiducia in noi stessi e nel nostro territorio. Noi solo qualche giorno fa, grazie alla partecipazione in collegamento dell'attore Vincenzo De Michele, parlavamo di Bicari attraverso il film Ralph De Palma, l'uomo più veloce del mondo. Un emigrante biccarese che con il papà arrivò negli Stati Uniti all'inizio del Novecento, se non ricordo male, poi fece grande anche la sua città d'origine con i primati che raggiunse alla guida della sua automobile. Come dicevi tu però, già in apertura tante volte i successi non sono merito di una sola persona, ma di un lavoro di squadra, di lungimiranza, di passione, impegno. Bicari ha raggiunto tanti obiettivi anche perché è stata in grado di aggregare la sua comunità intorno ad una cooperativa, la cooperativa Comunità Bicari. Sì, noi siamo convinti che il primo agente di sviluppo locale di un territorio siano i suoi abitanti, siano le persone. Troppo spesso si è pensato di risolvere i problemi dei nostri paesi con le opere pubbliche, con le grandi infrastrutture, tutte cose giuste per l'amor di Dio, ma le opere non prendono decisioni, le decisioni le prendono le persone e sono le persone che possono fare la differenza. Con la cooperativa di comunità, ma anche con tanti altri progetti simili o paralleli, noi abbiamo cercato di mettere al centro di ogni processo di sviluppo locale le persone, sia i residenti che i nuovi residenti, quelli che possono arrivare per tanti altri motivi. Costruire insieme una comunità ospitale, una comunità dove si possono fare tante esperienze, dove si possono vivere tanti modi diversi di conoscere il nostro territorio, ci è sembrato l'elemento fondamentale per provare a scrivere una storia nuova nel nostro territorio. Io sono perfettamente d'accordo con te, noi ci fermiamo soltanto per qualche istante, perché poi insieme a te andremo a vedere concretamente quello che avete fatto in questi anni. I progetti sono tanti e, come è giusto che fosse, poi sono arrivati anche tanti riconoscimenti. Ritorniamo tra pochissimo.